Fila 6 in seconda 150 al lancio Problemi per Druso Nerone GPD Stacco della macchina che vede all'interno Capuzzi che replica Crinto Light Si insinua dalla seconda fila molto bene Derby Mail a precedere Denis per linee esterne Donna Summertreb Si va così al completamento della piegata con all'esterno anche Disis del Circeo L'errore per Derby Mail alla fine della curva è così 400 in 29 e mezzo per il numero 2 di Capuzzi Mentre ha preso la via del largo con decisione Denis che è andato in schiena Donna Summertreb Così a 600 che vanno via nell'ordine del 45 con Donna Summertreb Frustino in avanti per Emilio Galiani al lato di Capuzzi Quando si va sulla piegata di destra Seconda pariglia sempre per il favorito Denis Metà gara in un minuto e sette decimi Poi la terza pariglia per Disis del Circeo L'errore per Dakota dei Rumi Ora rimane ancora al comando Capuzzi al chilometro che viene via nell'ordine dell'1.15.5 Ora c'è la mossa in terza corsia di Candelario Che va addirittura a rifare il gruppo Problemi per Denis Candelario che va a lungo sul battistrada Prova ad anticiparlo Crinto Light che si insinua tra i due Candelario in terza corsia Crinto Light in seconda Capuzzi alla corda Questi tre addirittura ad arrivo Con Crinto Light che scurva per primo Ma deve fronteggiare l'avanzata di Candelario Che è molto incisivo Ancorché sollecitato dal proprio interprete Poi anche Daphne Griff Nel finale Crinto Light alla corda Con Candelario e Daphne Griff Crinto Light che si mantiene in evidenza Su Daphne Griff Che ha ragione di Candelario Per il secondo posto Due minuti tondi per chi vince Ovvero il bel successo Che andiamo a vedere nel replay Da parte di Crinto Light Giuseppe Franco Per il training di Raffaele Forinio Il colore del signor Fabio Napoletano Il figlio di leggendario Eollolai Che hanno anticipato la risalita di Candelario Proprio ai 500 conclusivi Sono andati sulla battistrada Capuzzi Che poi è acceduto nel finale E hanno resistito al ritorno agli avversari 3-13-12 Mentre per il quarto posto emerge Vedremo poi nelle immagini Probabilmente ancora Druso Nerone GPD Comunque vedremo poi Quello che sarà il risultato definitivo Quello che è certo Per le prime tre posizioni Il successo in E' stato un'ottima Per le prime tre posizioni E' stato un'ottima Per le prime tre posizioni Per le prime tre posizioni